Paulucci, parlate di una regione che non va, master plan, sanità rifiuti, commercio, cura Abruzzo 1 e 2, tante secondo voi le cose da rivedere, perché? È una giunta incapace di governare, che fosse un alieno atterrato da Roma in questa terra, a noi era chiaro il presidente Romano Marsilio, ma meno chiaro che diventasse anche nervoso come è accaduto anche ieri nella doppia conferenza stampa che ha tenuto e che non ha fatto altro che confermare i nostri timori, circa questa incapacità di governare 217 milioni di euro tolti al master plan per opere strategiche, fino ad arrivare alla totale assenza di programmazione sulla sanità, sui rifiuti, sull'urbanistica, sul commercio e alle impugnative le tante osservazioni sul cura Abruzzo 1 e 2. Ieri è stato anche presentato il documento del comitato scientifico della regione Abruzzo, anche su questo punto voi avete avanzato delle perplessità, delle critiche? Beh, intanto perché sono state escluse le parti sociali, volutamente per tempo, in secondo luogo perché ritengo e sottolineo che il comitato tecnico scientifico ieri abbia dato una serie di enunciazioni di principio, ma non si è entrato in nessuno degli assi delle misure e delle coperture per proporre una visione e interventi strategici per la nostra regione, in altri termini si è sostituita la politica. Ieri il comitato tecnico scientifico non ha fatto altro che proporre un documento politico, forse per la campagna elettorale 2024-2029, ma noi abbiamo bisogno di risposte ora e il presidente Romano Marsiglio non ne dà. Che autunno si preannuncia, si prevede per gli abruzzesi? Difficile, perché intanto con questo taglio del muscle plan sono risorse che hanno già consumato, sono andate a coprire come fossero dei ragionieri le mancate coperture del Curabruzzo 1 e 2, quindi risorse questa regione non ne mette a disposizione, dovremmo essere bravi a convogliare quelle che il governo nazionale ha contrattato con l'Europa e sono importanti, ma senza una capacità di mettere in campo visione e programmazione, quelle risorse non arriveranno a bersaglio. Grazie a tutti.